Scegli oggi il tuo domani. Ciao, sono Andrea e mi sono laureato all'Università dell'Insubria in Ingegneria Ambientale e per la Sostenibilità degli Ambienti di Lavoro. Oggi mi occupo di depurazione dell'aria. Il corso che ho seguito all'Insubria per me è stato molto importante, in quanto oltre a fornirmi le conoscenze nei campi di ambiente e sicurezza, mi ha aperto le porte del mondo del lavoro. L'ultimo anno di università, infatti, ho potuto svolgere una tesi sulla rimozione del cromo da reflu industriali, lavorando presso un'azienda che si occupa di depurazione delle acque. Poco dopo la laurea ho poi potuto intraprendere questo nuovo percorso in un'azienda del milanese che si occupa di depurazione dell'aria. Pensate bene a cosa vorreste fare nel vostro futuro. È una scelta importante. Buona fortuna!